Sono le 20.30 del 25 novembre 1988 e Junko Furuta, un adolescente giapponese di 17 anni, sta percorrendo la strada verso casa in bicicletta dopo aver finito il suo turno di lavoro. È tutto tranquillo, come al solito, peccato però che la ragazza non farà mai più ritorno a casa e la sua storia sarà ricordata come uno dei peggiori casi di cronaca nera di sempre. Amici miei, buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. Sicuramente la maggior parte di voi conoscerà già la storia che voglio raccontarvi oggi. Tuttavia, dato che mi chiedete di raccontarla da sempre, ho deciso finalmente di farlo anch'io. Sto parlando del terribile omicidio di Junko Furuta, conosciuto anche come l'inferno di Junko Furuta. Questa volta sono obbligato a fare una piccola premessa. Questo è stato uno dei casi che ha più sconvolto il Giappone e poi tutto il resto del mondo. Dovrò descrivervi scene di violenza fisica e sessuale e purtroppo dovrò entrare nel dettaglio perché l'intera vicenda è incentrata proprio su queste violenze. Per quanto riguarda la crudeltà del crimine possiamo paragonare questo caso a quello di Hello Kitty che vi ho raccontato tanto tempo fa e devo ammettere che questa storia mi ha fatto stare parecchio male. Anche per questo ho aspettato così tanto per raccontarvela. Proverete tanta rabbia, tanto dolore, tanta tristezza. Quindi, se pensate di non essere pronti ad ascoltare una storia simile, ci vediamo direttamente al prossimo video senza alcun problema. Scusate per questa lunga parentesi ma era giusto farla. Oggi, per immergerci completamente nelle vicende, ho voluto invitare sul canale il mio amico e collega Bob del canale Beyond Ordinary Borders. Ho avuto il piacere di visitare il Giappone proprio con lui qualche mese fa e vi posso assicurare che è un esperto del paese del sollevante. Nel suo canale racconta storie assurde, a volte true crime e spesso ambientate in Giappone, quindi chi meglio di lui poteva accompagnarmi in questo viaggio bruttissimo nella storia di Junko Furuta. Ciao amanti del mistero e benvenuti in questo nuovo file, molto piacere. Come diceva Andrew, le storie assurde sono un po' il mio pane, soprattutto se giapponesi, quindi il caso di Junko Furuta, vista la sua enormità, ci è sembrato il momento perfetto per tornare a collaborare. Spero di essere un co-conduttore all'altezza del racconto di oggi, ma non voglio rubare troppo tempo alla storia di Junko, quindi intanto buona visione o buon ascolto. Detto tutto questo, cominciamo con i file di oggi. Junko Furuta nasce a Misato, nella prefettura di Saitama, il 18 gennaio 1971. Nel 1988, anno in cui si svolgono i fatti, Junko ha 17 anni ed è una ragazza semplice e sempre di buon umore. Vive insieme ai suoi genitori e ai suoi due fratelli, uno più grande di lei e uno più piccolo. Frequenta il liceo ed è una studentessa a modello, passa la maggior parte del tempo a studiare e viene definita da tutti come una bravissima ragazza. I suoi genitori sono molto fieri di lei, del suo percorso e dei suoi obiettivi di vita. Dovete sapere infatti che in Giappone l'educazione scolastica dei propri figli è importantissima per i genitori. Si crea spesso una situazione di grandi aspettative nei confronti dei figli e, ciò purtroppo, causa una pressione psicologica non indifferente negli studenti, che sono sempre spronati, a fare di più e farlo meglio. Nonostante si tratti di una condizione parecchio pesante da sostenere, Junko riesce sempre a soddisfare le aspettative dei suoi. La ragazza è il perfetto esempio di figlia modello. Va molto bene a scuola, è popolare, passa il suo tempo a studiare e prende buoni voti. È ubbidiente, sa di non dover dare troppa confidenza agli strani e, per la sua età, è molto matura. Insomma, diciamocelo, è tutto quello che una famiglia tradizionale, specialmente giapponese, possa mai desiderare. Junko, oltre a essere una brava studentessa, è anche una brava e ambiziosa lavoratrice. La ragazza, infatti, nonostante gli orari massacranti del suo liceo, ha anche un laboretto part-time, che le permette di mettersi da parte i soldi, che le serviranno poi per l'università. Oltre a questo, Junko ha già in programma di andare a lavorare da un'altra parte appena dopo il diploma. Pare proprio che, al momento dei fatti, si fosse già messa d'accordo con il titolare di un negozio, più di preciso un rivenditore di oggetti di elettronica, da cui sarebbe andata a lavorare, appunto, una volta finito il liceo. Tutto questo è per dire, per sottolineare, che Junko, senza dubbio, è una ragazza tranquilla e con la testa sulle spalle. Una di quelle persone che non dà mai problemi a nessuno, che pensa a sé e al proprio futuro. Come dicevo, una ragazza molto matura per la sua età. Pensate che non le piace neanche andare alle feste, ubriacarsi o fare uso di droghe, cose comunque comuni durante l'adolescenza, ma tutto questo non le impedisce di fare comunque tante amicizie. Non è una persona solitaria. Junko, infatti, nonostante gli interessi diversi rispetto a quelli della maggior parte dei suoi coetanei, ha tanti amici ed è ben voluta da tutti. Inoltre, il suo carisma e la sua bellezza, anche a livello prettamente estetico, attirano l'attenzione di tutti, specialmente dei ragazzi. E proprio uno di questi compagni di scuola che rimane colpito da Junko, è un adolescente di nome Hiroshi Miyano. Hiroshi è un ragazzo di 18 anni molto particolare e controverso. A scuola non gode per niente di una buona fama, è il classico bullo a cui piace vantarsi di aver commesso crimini vari come qualche furtarello o svariaterisse. Oltre a ciò, Hiroshi è prepotente e violento, ama essere al centro dell'attenzione e soprattutto comandare sugli altri, e, in generale, non gli piace che qualcuno gli manchi di rispetto. Nei corridoi di scuola racconta sempre ai suoi compagni di far parte della Yakuza, la pericolosa mafia giapponese, ma probabilmente lo fa solo per intimidire e spaventare i suoi coetanei, in modo da guadagnarsi in qualche modo il loro rispetto. La sua storia personale è senz'altro strana, perché di lui sappiamo ben poco, e quel poco che sappiamo fa capire perfettamente di che persona stiamo parlando. Così, per dirvene una, i suoi stessi genitori avevano paura di lui, perché lui sapeva come manipolarle e minacciarle. Insomma, era tutto il contrario, l'altro lato della medaglia rispetto alla dolce e tranquilla Junko. Nell'aprile dell'86, Hiroshi si iscrive a una scuola superiore privata a Tokyo, ma l'anno successivo decide di lasciarla. Solo dopo diversi mesi si iscriverà al liceo Yashio Minami, che sarebbe la stessa scuola frequentata proprio da Junko. È lì che un giorno la nota nei corridoi, si prende una bella cotta per lei. Secondo alcune fonti, Hiroshi però aveva già una ragazza, una ragazza con la quale avrebbe voluto sposarsi un giorno, una storia seria. Peccato però che i suoi crimini e la sua vita spericolata portavano spesso litigi tra i due, litigi che porteranno poi ad una rottura definitiva. Ecco, non è chiarissimo quando sia avvenuta questa sequenza di eventi, ma quello che sappiamo per certo è che Hiroshi, ad un certo punto, si invaghisce di Junko e la vuole a prescindere dal fatto che fosse fidanzato o meno. Il motivo non si sa esattamente. Non ci si aspetta che uno come Hiroshi, che vive una vita spericolata, possa infatuarsi di una ragazza tranquilla come Junko. Però è andata così, e quando il ragazzo voleva qualcosa, era solito utilizzare qualsiasi mezzo pur di ottenerla. Un giorno, Hiroshi decide di dichiararsi a Junko. Nella sua testa probabilmente pensava di farle paura e di riuscire così a conquistarla, tra virgolette, molto in fretta. Ma lei non era come le altre persone, era determinata, e non aveva paura di dire quello che pensava. Così, respinge le sue avance e i suoi inviti ad uscire. Lo rifiuta, ma in maniera molto gentile. Come vi diceva prima Bob, però, a Hiroshi non piaceva quando qualcuno non gli ubbidiva. E sicuramente non gli piaceva essere respinto. Nella sua mente, questo rifiuto equivaleva ad un'umiliazione senza precedenti. Nessuno si era mai permesso di rifiutarlo. Junko, purtroppo, non poteva sapere che le sue parole avrebbero fatto uscire il mostro che c'era dentro Hiroshi. Così, il 25 novembre del 1988, cominciano i famigerati 44 giorni di inferno della povera Junko. Quel giorno, il 25 novembre, inizia come tanti altri. Non c'era alcun segno che potesse far presagire qualcosa di preoccupante, proprio nulla. La giornata trascorre in maniera normale fino a quando arrivano le 20 e 30. Junko aveva da poco finito il suo turno di lavoro e stava tornando a casa a bordo della sua bicicletta come al solito. Stava pedalando su una strada che conosceva molto bene e che percorreva spesso. Ad un certo punto, però, un ragazzo le sbuca davanti completamente dal nulla e la aggredisce facendola cadere dalla bicicletta. Quindi Junko si ritrova a terra e, disorientata per la caduta, subito non riesce neanche a capire cosa le era appena successo. Il ragazzo che l'aveva fatta cadere intanto era scappato. Quindi Junko si rialza a fatica, tira sulla bicicletta e si guarda intorno spaisata per vedere se il suo salitore fosse ancora nei dintorni. Come in un film, però, appare Hiroshi che accorre verso di lei per aiutarla. Le chiede se andasse tutto bene, se si fosse fatta male e le propone di accompagnarla a casa per farle compagnia, così si sarebbe sentita più al sicuro. Quello che lei non sapeva, però, è che era stato proprio Hiroshi ad organizzare il tutto. Aveva ordinato ad un suo amico stretto, un ragazzo di nome Shinji Minato, di tenderle un agguato per farla cadere dalla bici. Così Hiroshi sarebbe andato da lei e l'avrebbe aiutata, guadagnandosi facilmente la sua fiducia. Junko, anche per gentilezza, accetta l'invito di essere accompagnata a casa dai Hiroshi. Alla fine la passeggiata sarebbe durata solo qualche minuto e sebbene Hiroshi non fosse proprio la persona più raccomandabile di questo mondo, in quel momento l'aveva aiutata e aveva paura lei perché comunque era appena stata attaccata da uno sconosciuto. Hiroshi, inoltre, non era un perfetto sconosciuto. Insomma, in queste circostanze penso che chiunque avrebbe accettato di percorrere un pezzo di strada insieme, specialmente dopo l'aggressione. Durante il ritorno verso casa, però, Hiroshi comincia a sviare in zone sempre più distanti dalla destinazione. Usa delle scuse apparentemente innocenti e lo fa per prendere una strada piuttosto che un'altra, fino a quando non arrivano nei pressi di un magazzino abbandonato. E lì, nel buio di quella notte, Hiroshi comincia a tutti gli effetti la sua vendetta. Lui era molto arrabbiato. Junko l'aveva rifiutato e per questo si sentiva ancora ferito nell'orgoglio. Quindi una volta arrivati lì, porta la ragazza all'interno del magazzino e dopo essersi assicurato che nessuno potesse sentire o vedere nulla, comincia a stuprare. Junko cerca di liberarsi, di scappare, ma Hiroshi è furioso e non ha nessuna intenzione di lasciarla andare. Dopo le violenze, il ragazzo apre lo zaino della povera Junko e recupera un tacquino in cui erano annotati alcuni dei suoi dati personali. Leggendoli, decide di cogliere la palla al balzo e minacciarla. In quel diario aveva letto l'indirizzo di casa sua e i nomi dei suoi genitori, per cui le dice che se mai avesse rivelato qualcosa a qualcuno, se mai si fosse ribellata a lui, lui avrebbe sterminato la sua intera famiglia senza pietà. Continua dicendole che faceva parte della Yakuza, quindi doveva prendere le sue parole molto seriamente, doveva credere che sul serio la sua famiglia era in pericolo. Non sappiamo se Junko avesse creduto davvero a questa storia della Yakuza e non sappiamo nemmeno se credesse che realmente la sua famiglia fosse in pericolo per colpa di Hiroshi. Quel che è certo è che si è subito resa conto della pericolosità del ragazzo e della situazione in cui si era purtroppo ritrovata. A questo punto infatti lei è molto spaventata e al di là della minaccia alla sua famiglia, purtroppo in quel momento non può fare molto contro di lui e per questo motivo accetta le sue condizioni e decide di dargli retta e ubbidirgli fino a quando non l'avrebbe lasciata andare. Purtroppo però Hiroshi aveva altri piani per lei, piani completamente diversi. Non aveva ancora finito, anzi, era solo all'inizio. Dopo lo stupro di quella notte, Hiroshi porta Junko in un hotel della zona, nel quale commette altri abusi sessuali nei suoi confronti per altre tre volte almeno. Sfoga tutta la sua rabbia su quella ragazza innocente e lo fa solo per dimostrare a se stesso di essere un duro e di meritare rispetto. Quindi dopo ore di abusi e violenze, Junko, poverina, è esausta. Non ha neanche più energie per reagire o anche solo per parlare. Praticamente si rassegna. Ed è in quel momento, un momento di assoluta fragilità e debolezza, che Hiroshi decide di infierire ancora di più. Chiamo alcuni suoi amici per raccontare loro cos'era successo quella notte. Si vanta di essere riuscito a sequestrare Junko e di averla stuprata più volte. I suoi amici, gli amici in questione, sono Joe Ogura, Shinji Minato, il ragazzo che l'aveva fatta cadere dalla bicicletta, e Yasushi Watanabe. Sono tutti coitanei e non stanno più nella pelle, vogliono divertirsi anche loro con Junko. Uno di loro propone così di stuprarla in gruppo, così da divertirsi tutti insieme. Hiroshi ovviamente accetta subito questa proposta. Prende Junko e la porta in un parco lì vicino dove i suoi amici li stavano aspettando. Potete immaginare cosa succede subito dopo. Ecco, ormai è troppo tardi per fare qualcosa. La ragazza non riesce neanche... non riesce, non può, non può ribellarsi, anche perché non le danno tregua. È circondata da quattro mostri che abusano di lei di continuo e in modo brutale. E passa così la prima notte d'inferno. Una sola notte già così terribile in quelli che sarebbero stati 44 giorni. Sfogarsi ripetutamente su di lei per ore per questi quattro mostri non era abbastanza. Dopo le violenze decidono di tenerla ancora con loro. Dovete sapere che tempo prima Hiroshi e i suoi amici avevano già messo in atto un'aggressione di questo tipo. Avevano rapito una ragazza e l'avevano violentata in gruppo per tutta la notte. Quella volta però avevano deciso di lasciare libera la vittima, che in seguito aveva deciso di non denunciarli, probabilmente sotto minaccia. In questa istanza però la situazione è leggermente diversa. Non c'è un motivo preciso, possiamo solo ipotizzarlo. Ma i ragazzi, questa volta, non vogliono lasciare andare la loro preda. Una delle ipotesi più gettonate riguardo il motivo per cui non volevano lasciarla andare sta nella resistenza al dolore di Junko. L'ipotesi quindi che Hiroshi e i suoi amici, vedendo che Junko resisteva bene alle loro percosse, infierivano sempre di più. E questo inseguimento del dolore della ragazza provocava loro un immenso piacere. Insomma, più infierivano, più volevano infierire. Ma ricordo che questa è soltanto un'ipotesi. Dopo l'episodio del parco, decidono di portarla in casa di uno di loro, precisamente a casa di Shinji. Lì avrebbero potuto continuare con le violenze fisiche e sessuali. È bene notare però che Shinji non viveva da solo, c'erano anche i suoi genitori in casa. Loro però sembrano essere totalmente disinteressati a ciò che fa il figlio. Quindi quando i ragazzi entrano con una loro coetanea, non fanno nessuna domanda. So che può sembrare assurdo, è molto difficile entrare nell'ottica di questa dinamica. È però probabile che i genitori di Shinji si fossero rassegnati ai comportamenti del loro figlio. È anche probabile che magari avessero paura di lui. Ma è ancora più probabile che avessero semplicemente deciso di restare fuori da questa storia. Perché sapevano che in realtà stava per succedere qualcosa di molto sbagliato sotto il loro tetto. Lo so, ci sono diverse ipotesi, è molto strano, ma questo è quanto. I genitori di Shinji non hanno fatto alcuna domanda. Anche qualora le avessero fatte, i ragazzi avevano già pensato a cosa rispondere. Avrebbero detto che Junko era semplicemente la nuova ragazza di Shinji, ma l'avrebbero detto solo in caso di necessità. Una necessità che però non arriverà mai. Arrivati a questo punto sono passati due giorni dal rapimento e giustamente vi starete chiedendo ma i genitori di Junko, in tutto ciò, hanno fatto qualcosa? Si sono preoccupati? Ecco, in realtà sì, anzi, sono preoccupatissimi. La sera stessa della scomparsa, non vedendo tornare a casa la loro figlia, chiamano subito la polizia per denunciarne la scomparsa e far partire le ricerche nella zona. Conoscendola non pensano che possa essere andata troppo lontano. Purtroppo, però, non passa molto dall'avviso della scomparsa che il gruppo di rapitori scopre, o almeno comincia a sospettare, che prima o poi la famiglia della ragazza avrebbe fatto qualcosa. Le ricerche si sarebbero intensificate e piano piano gli agenti sarebbero risaliti a loro. Decidono quindi di fare una cosa sottile ma estremamente diabolica. Costringono la stessa Junko a chiamare i suoi genitori e a mentire, dicendo loro che stava bene, che era andata via con degli amici e che non sarebbe mai più tornata a casa. La costringono anche a dire di fermare le ricerche, perché lei non voleva assolutamente essere cercata e trovata. E la cosa ancora più scioccante è che questa farsa ha funzionato. Hanno davvero tutti creduto che Junko fosse andata via così, dal nulla, senza un apparente motivo, tanto che a seguito della chiamata nessuno l'avrebbe più cercata. Qui comincia davvero la parte più dolorosa e disturbante di questa storia, quindi continuate solo se ve la sentite davvero. Junko Furuta passerà il resto della sua breve vita dentro a quella casa maledetta, dove le verranno inflitte le peggiori violenze che un umano possa mai concepire. Violenze e abusi che subirà costantemente, in qualunque momento, di giorno e di notte. Per lei lo scorrere del tempo non avrà più un senso, perché la sua vita, ormai, era diventata solo un susseguirsi di torture e violenze. In presenza dei genitori di Shinji, Junko inizialmente è costretta a fingere di essere la sua fidanzata. Questa messa in scena, tuttavia, finisce dopo pochissimo tempo, perché ai genitori in realtà non importava proprio niente di lei. O meglio, forse a loro importava, ma temevano così tanto il figlio che forse preferivano restarne fuori. D'altro canto, Shinji sa che loro non chiameranno mai la polizia, quindi decide di segregare definitivamente Junko. Così Hiroshi e il suo gruppo di amici cominciano a picchiarla e a abusare di lei tutti i giorni, più volte al giorno. I colpi variano di intensità di volta in volta, tendendo però ad essere sempre più forti, sempre più violenti. Junko comincia a venire colpita dai ragazzi anche con spranghi di ferro o altri oggetti pesanti. Poi, spesso, viene appesa a testa in giù per le caviglie e viene presa a pugni come se fosse un sacco da box. Il punto focale di questo calvario, tuttavia, sono ovviamente gli stupi. Junko viene abusata ogni singolo giorno, tutti i giorni, e non solo dai ragazzi del gruppo, ma anche da altre persone. Conoscenti, coetanei e gente più grande di loro. Adulti che accettavano di entrare in casa di un ragazzino per abusare di Junko, una ragazza di 17 anni. Trovo assurdo che nessuno di loro abbia mai detto niente. Ma oltre ad essere picchiata e stupata ogni giorno, i ragazzi cominciarono presto ad infierire con le peggiori torture. Quelle che sto per riportarvi ora sono le cose malate che hanno deciso di farle. Le sono state infilate nei genitali svariati oggetti come bottiglie, un'asta di metallo, bastoni, forbici o anche fiammiferi accesi. Le hanno spento delle sigarette addosso, sulla pelle nuda e spesso proprio nelle stesse parti intime. L'hanno bruciata più volte, specialmente sulle gambe, causando le ustioni e ferite che poi, col tempo, si sono inevitabilmente infettate. Di notte la facevano dormire fuori, sul balcone e a volte anche nuda, estremata per le ferite e gli abusi subiti. E, oltre a pugni, calci e tutte le cose che vi ho descritto, la costringevano anche a bere o inalare grandi quantità di solventi. Più passavano i giorni e più gli organi interni di Junko cominciavano ad essere compromessi. Nei primi giorni dal rapimento, i ragazzi le portavano qualcosa da mangiare ogni tanto, ma più passava il tempo e più le dosi del suo cibo e la frequenza con cui le veniva portato diminuivano. I ragazzi l'hanno costretta a mangiare insetti vivi e a bere la sua stessa urina e, alla fine della sua prigionia, Junko non riusciva neanche più ad ingerire niente. Tanto erano gravi le sue ferite. Poi, se all'inizio le permettevano di andare in bagno per fare i bisogni, dopo qualche giorno hanno cominciato a costringerla a farli nella stessa stanza in cui era imprigionata. La ragazza si è ritrovata molto in fretta senza forze, gravemente denutrita, con tante ferite infette, obbligata a vivere e dormire sopra i suoi stessi escrementi. Non so se esiste un destino peggiore di questo, ma non è finita qui. Oltre a tutto questo, quando andavano a trovarla i ragazzi e gli uomini invitati dai rapitori, lei era costretta a masturbarsi davanti a loro, anche mentre veniva picchiata e abbruttata. Infierivano anche sulle ferite già fatte in precedenza, anche su quelle infette, causando l'aggravarsi esponenziale delle sue infezioni. Le veniva anche rovesciata della cera calda sul corpo e, a volte, anche sulle palpebre e sulle parti intime. La costringevano poi a fumare tantissime sigarette, anche più di una alla volta, per poi spegnergliela addosso e la obbligavano quasi sempre a farsela addosso di proposito. Quest'ultima, cosa che dopo un po' di tempo non sarà neanche più sotto il suo controllo. Junko, infatti, è diventata incontinente per via delle ferite e dei costanti abusi. Questi sono comportamenti che definire disumani non è solo riduttivo, ma è anche superfluo. Pensate che in totale Junko è stata violenta circa 500 volte da almeno 30 uomini diversi. Circa 100 uomini, invece, erano a conoscenza del fatto che era tenuta rinchiusa in casa di Shinji. E come ho detto prima, nessuno ha mai detto nulla. C'è stato un momento in cui questa tragica storia avrebbe potuto prendere una piega diversa. Provo a spiegarmi. A due settimane dal rapimento, ormai erano decine gli uomini ad essere entrati e usciti dalla casa di Shinji. Uno di questi uomini però aveva sviluppato una sorta di senso di colpa, alleluia, e aveva quindi deciso di raccontare tutto a suo fratello. Questo fratello ha poi fatto una cosa molto importante, ovvero chiamare la polizia per richiedere la perquisizione della casa di Shinji. Due agenti effettivamente quindi sono andati a controllare, e alla porta di casa si sono trovati i genitori di Shinji. Hanno subito chiesto loro se in casa ci fosse una ragazza, ma loro ovviamente, impauriti dal loro stesso figlio, e dai roshi anche, hanno mentito. Hanno detto che non c'era nessuno, aggiungendo che se volevano, potevano accomodarsi per verificare coi loro occhi. E questi agenti a quel punto hanno rifiutato l'invito ad entrare, si sono fidati e se ne sono andati. Cioè se quel giorno quei due poliziotti fossero entrati, le cose sarebbero andate molto diversamente, e avrebbero salvato Giunco. Tuttavia questa non è stata l'unica occasione in cui Giunco si sarebbe potuta salvare. Una sera, dopo che tutti avevano già abusato di lei più volte, e avevano bevuto fino ad addormentarsi, Giunco ha colto questa rarissima opportunità per alzarsi e provare a chiamare la polizia. Purtroppo però non ha fatto in tempo a dire nulla al telefono, perché uno dei ragazzi l'ha vista, e questo purtroppo farà peggiorare ulteriormente gli abusi e le punizioni nei suoi confronti. Vabbè, non ha neanche senso chiamarle punizioni perché Giunco non aveva fatto niente, erano vere e proprie torture e basta. Quella sera, infatti, dopo averla scoperta, che provava a chiamare la polizia per salvarsi, le hanno cosparso i piedi di un liquido infiammabile e le hanno dato fuoco. Per 44 giorni di fila non c'è stato un solo momento in cui la ragazza ha potuto respirare in pace, essere libera, tranquilla neanche un minuto. Credo proprio che una cattiveria del genere non si sia mai vista in tempi recenti. Erano gli anni 80, in una casa comunissima in Giappone, un posto, ragazzi, davvero sicuro e semplicemente assurdo e inspiegabile, perché lì non succede mai niente del genere, però quando succede, succede così estremo ed è assurda questa cosa, non capisco. Comunque, ovviamente non sappiamo che cosa pensasse la ragazza in quel periodo, in quel periodo di prigionia, ma credo proprio che ad un certo punto non vedesse l'ora di morire. Una volta, visto che tutte le possibilità di fuga e di salvezza erano inutili, o inattuabili, si era assegnata al suo destino, ha smesso di lottare, di provare anche solo ad urlare, a chiedere aiuto, tanto era inutile. E se lo avesse fatto, le avrebbero fatto ancora più male. E i ragazzi in tutto ciò stavano piuttosto attenti a non ucciderla, prolungando di fatto la sua agonia il più possibile, lo facevano apposta. Le facevano male, sì, molto male, ma stando attenti appunto a non toccare il punto di non ritorno, volevano farla soffrire il più possibile, almeno fino a quando non si sarebbero stancati di lei. Dopo più di un mese dal suo rapimento, Junko è ridotta ad una non esistenza. Non vede bene, non sente bene, non riesce neanche a camminare, né a muoversi come vorrebbe. Non riesce ad afferrare bene gli oggetti con le mani, perché ha le dita distrutte a causa delle botte. E ormai, come vi anticipavo prima, non riesce neanche più a controllare né il suo intestino, né la sua vescica. Per questo motivo, ogni volta che fuoriesce qualcosa dal suo corpo, viene punita. Arrivati a questo punto, il suo corpo non le risponde più, è quasi al collasso. Ha spesso delle crisi epilettiche, che generano nei ragazzi ancora più rabbia, perché pensano che stia fingendo. Poi c'è da aggiungere che ovviamente non le permettevano di lavarsi, e non la lavavano, quindi a più di un mese rinchiusa lì, la ragazza comincia ovviamente a puzzare tantissimo, anche per via del fatto che veniva abbandonata sui suoi stessi escrementi. Comunque, la puzza che emana fa ribrezzo persino ad Hiroshi e ai suoi amici, che si rendono conto che ormai, per loro è diventata l'equivalente di un giocattolo rotto. Non erano più interessati a lei, non a livello sessuale, viste le condizioni in cui riversava. Così Hiroshi e i suoi amici decidono di rapire e stuprare un'altra ragazza, che però liberano subito dopo per poi tornare di nuovo da Junko e continuare con le violenze. Arriviamo così al 44esimo giorno, il giorno in cui la sua agonia sarebbe finalmente terminata. Uno del gruppo decide di giocare con lei, più di preciso vuole sfidarla a Mahjong, un gioco da tavolo cinese molto famoso anche in Giappone. Junko ovviamente non può decidere se giocare o meno, viene obbligata a farlo. E straordinariamente, nonostante lo stato confusionale, nonostante la debolezza e le gravissime condizioni in cui si trovava, vince quella partita. Esatto, cioè nonostante tutto la ragazza vince. E questo ovviamente fa imbestialire i ragazzi, che di nuovo, e questa volta per l'ultima volta, con tutta la rabbia che hanno in corpo, cominciano a colpir la ripetizione. Questa volta non sono spinti da un desiderio perverso, sono solo furiosi perché lei non doveva permettersi di vincere, capito? E pensateci un attimo, cioè nonostante le torture subite, barbare, torture barbare veramente, nonostante non ci vedesse più, nonostante non riuscisse a camminare, a sentire, a bere, mangiare, nonostante fosse ridotta allo stremo, ha vinto una partita a un gioco da tavolo. La sua vittoria a Mahjong ha umiliato quei mostri. Devono essersi sentiti stupidi ad aver perso contro di lei in quelle condizioni. Junko ha dimostrato loro quanto valeva fino all'ultimo respiro. Forse non sperava neanche più di sopravvivere, ma è riuscita comunque ad umiliarli. Tuttavia questa vittoria, come potrete immaginare, firma la sua condanna a morte. Lei probabilmente già sapeva che sarebbe finita così, e chissà, forse lo sperava. D'altronde la morte in questa circostanza per lei sarebbe stata l'unica soluzione di salvezza. E così come era prevedibile, i ragazzi la aggrediscono con tutta la ferocia che avevano in corpo. La picchiano, le danno fuoco, le versano di nuovo la cera sulle palpebre, le ferite si riaprono, ed essendo già infette, il sangue che ne fuoriesce, il sangue e il pus che ne fuoriescono, schizzano ovunque sporcando i ragazzi. Ma loro continuano, anche se sono un po' schifati nel toccarle, e quindi, pur di non smettere di torturarla, si avvolgono le mani in dei sacchetti di plastica, le usano come guanti e continuano a picchiarla. Infine le danno fuoco di nuovo, il tutto mentre lei si dimena in una crisi epilettica fortissima e fuori controllo. Questa furia omicidia di gruppo dura più di due ore. Due ore in cui Junko viene picchiata letteralmente a morte. Le indicibili violenze contro questa ragazza innocente finalmente terminano. I mostri si sono sfogati a sufficienza, e Junko ormai non risponde più, non dà più segnali di vita, è ferma e non respira. Junko Furuta muore il 5 gennaio 1989, ma i suoi assassini non si resero subito conto di averla uccisa. Pensavano che stesse fingendo una crisi epilettica, e per questo hanno continuato ad inferire su di lei. Quando poi si è fermata senza vita, loro si sono stancati di colpirla, e solo dopo 24 ore, cioè dopo un giorno intero, si sono resi conto di avere un cadavere in casa. Tutto ciò fa capire come questi ragazzi fossero completamente disconnessi dalla realtà. Hiroshi, il capo a tutti gli effetti di quel gruppetto, non poteva assolutamente permettersi di avere un cadavere tra le mani, così mise subito in piedi un piano per sbarazzarsi del corpo. Ecco com'è andata. I ragazzi avvolgono il corpo in una coperta, e mettono tutto all'interno di una borsa da viaggio. Fatto ciò, vanno in una zona lontana da occhi indiscreti, e mettono il corpo di Junko in un fusto da 210 litri, per poi riempirlo di cemento fresco. Intorno alle ore 20, scaricano il fusto di cemento con dentro il corpo, in una zona chiamata Koto, a Tokyo. E dato che durante la sua prigionia, Junko aveva detto più volte ai suoi rapitori di essere triste, per non essere riuscita a guardare l'episodio finale di una serie tv, allora Hiroshi ha trovato la videocassetta dell'episodio, e l'ha messa nella borsa da viaggio, in cui hanno trasportato il corpo avvolto dalla coperta. Se ha fatto tutto questo, non pensiate che sia per un qualche tipo di redenzione. In realtà, non voleva che Junko tornasse come fantasma, e lo perseguitasse dopo la morte. Ma, come siamo arrivati a conoscere tutti questi dettagli particolari sulle torture? Il corpo era stato cementato, quindi, come sappiamo, tutte queste informazioni. Ecco, ricordate l'altra ragazza stuprata durante i 44 giorni di prigionia di Junko? Ebbene, il 23 gennaio 1989, Hiroshi e Joe Ogura vengono arrestati proprio per quello stupro. Il 29 marzo dello stesso anno, poi, due agenti di polizia vanno ad interrogarli, e scoprono che loro, specialmente Hiroshi, erano davvero molto sospetti. I due capiscono male il motivo di questa visita, non avevano ben chiaro il perché li stessero interrogando. Così, entrambi hanno cominciato a temere di essere lì proprio per la faccenda di Junko. In realtà, i poliziotti avevano solo trovato della biancheria intima da donna nelle loro abitazioni, e volevano fare degli accertamenti. Si crea quindi questo grosso malinteso, se così possiamo definirlo, ed è proprio grazie a questo fraintendimento che verrà a galla tutta la verità. In quel periodo, nella stessa zona, la polizia stava indagando su un duplice omicidio, e sospettava appunto che Hiroshi e Joe fossero coinvolti. Loro, però, non ne avevano la minima idea, e temendo di essere stati scoperti per l'omicidio di Junko, vuotano il sacco. Hiroshi è il primo a parlare, e confessa tutto quello che lui e la sua banda avevano fatto alla povera Junko. Gli agenti, dal canto loro, rimangono sconcertati dalle sue parole. Non si aspettavano di avere delle confessioni per il delitto di Junko. Anzi, a dire la verità, loro in quel momento non sapevano nemmeno chi fosse Junko Furuta. Vi ricordate quando la denuncia per la sua scomparsa era stata ritirata, no? In seguito agli interrogatori, però, la polizia trova poi il corpo di Junko, che viene identificato con non poca fatica. A quel punto, tutti i membri del gruppo di assassini, che ormai hanno confessato, vengono arrestati e portati finalmente al processo. Questo processo non ha precedenti. In Giappone non si era mai visto un crimine così cruento in tempi recenti. Essendo i membri della gang tutti minorenni, bisognava garantire loro l'anonimato. Tuttavia, alcuni giornalisti della rivista Shukan Bunshun scoprono in fretta le loro identità e decidono di pubblicare i loro nomi su tutti i giornali, data la gravità del crimine. Secondo loro, i membri non meritavano il diritto all'anonimato. Tutti e quattro gli imputati si sono dichiarati colpevoli di aver commesso lesioni personali che hanno provocato la morte e non di omicidio vero e proprio. E purtroppo nella legge giapponese c'è una bella differenza. I ragazzi affermano che non era nelle loro intenzioni uccidere Junko. La loro intenzione era appunto solo l'aggressione. Quindi lei è morta per le ferite, non per la loro intenzione di ucciderla. Perché non avevano intenzione di ucciderla. Oh ragazzi, non ha senso. Cioè, puoi anche avere tutt'altre intenzioni, ma se poi torturi qualcuno per più di un mese, questo qualcuno muore in seguito alle ferite riportate, da te, a causa tua direi che è omicidio. Vabbè, preparatevi perché le condanne non hanno senso. Nel giugno del 1990, Hiroshi Miyano viene condannato a soli 17 anni di reclusione. Chiederà poi ai giudici di rivedere il caso e chiedere una riduzione della pena, ma i giudici faranno l'opposto. Lo condannano a 20 anni di carcere. I 20 anni, tenete a mente, sono la seconda pena più lunga dopo il carcere a vita in Giappone. Ma boh, secondo me sono comunque pochissimi. Hiroshi, infatti, ha finito di scontare la sua pena nel 2009 ed è stato rilasciato dal carcere. Dopo il suo rilascio, ha cambiato il suo nome in Yokoyama e ha iniziato a condurre una vita normale. Tuttavia, ha avuto non poche difficoltà a stare lontano dalla vita criminale. Nel 2013, è stato nuovamente arrestato perché è sospettato di frode. Tuttavia, per mancanza di prove, non è mai stato condannato effettivamente per quel crimine e la polizia ha dovuto lasciarlo libero. Da allora, ha condotto una vita lussuosa, a quanto si dice, concedendosi spesso abiti di lusso e autosportive. Inoltre, a quanto pare, ha riaperto i suoi legami con la malavita, la yakuza, e ha iniziato a partecipare a diversi schemi piramidali che costituiscono la sua più grande fonte di reddito. Queste ultime cose, però, prendiamole con le pinze perché le ho tradotte con Google Traduttore da un sito giapponese. Quindi, non lo so, sono voci, comunque, da quello che ho capito. Torniamo alle condanne degli altri. Yasushi Watanabe viene condannato a sette anni, mentre Joe Ogura trascorre solo otto anni dietro le sbarre. Quando è uscito di prigione, ha deciso anche lui di cambiare nome ed è riuscito persino a trovare un lavoro e una moglie. Nel 2004, poi, è stato arrestato di nuovo per aver aggredito un conoscente che credeva essere l'amante della moglie. A seguito di questo crimine, è stato condannato a sette anni di carcere. E una cosa davvero orribile è che sua madre, la madre di Joe, ha vandalizzato la tomba di Junko Furuta, giustificandosi, dicendo che era tutta colpa sua, di Junko, se la vita di suo figlio era rovinata. A voi i commenti, ragazzi, io a sto giro sto zitto perché non so che cosa può succedere. Comunque, Shinji Minato, infine, viene condannato dai 4 ai 6 anni di prigione. Chiederà poi una riduzione, anche lui, della pena e la condanna verrà aumentata dai 5 ai 9 anni. I genitori di Shinji, nonostante fossero inevitabilmente coinvolti nell'omicidio di Junko, cioè, ovvio, è capitato tutto sotto il loro tetto, vabbè, e comunque non avranno mai nessuna condanna, neanche un obbligo di risarcimento nei confronti della famiglia di Junko, niente. Dopo una serie di altri crimini sparsi nel corso del tempo, Shinji Minato nel 2018 è stato nuovamente arrestato per tentato omicidio, perché ha picchiato un uomo di 32 anni con un'asta di metallo e gli ha tagliato la gola con un coltello. Le ultime informazioni che sono riuscito a trovare a riguardo risalgono al 2019, quando l'uomo era in attesa del processo. Quindi, come vedete, 3 su 4 sono tornati ad essere violenti e pericolosi e chi l'avrebbe mai detto? Cioè, nessuno proprio avrebbe potuto pensarlo, no? Erano dei ragazzi così tranquilli. Cioè, le condanne che hanno avuto in seguito all'omicidio di Junko sono ridicole e lo dicono i giapponesi stessi che citano spesso questo caso quando si parla di alcune evidenti falle nel sistema giudiziario giapponese. In tutto ciò, comunque, i genitori della povera Junko sono rimasti a dir poco devastati e traumatizzati dall'accaduto. Hanno ovviamente cercato di combattere contro le condanne brevi dei colpevoli, ma sono riusciti solo ad ottenere una piccola vittoria contro la madre di Hiroshi, la quale ha dovuto pagare loro un risarcimento di 50 milioni di yen, circa 300 mila euro col cambio di oggi. Il funerale di Junko si è tenuto il 2 aprile 1989 e uno dei suoi amici ha fatto un discorso commemorativo davvero bellissimo. Ha detto queste parole. Bentornata, Jun Chan. Jun Chan è un diminutivo per chiamare Junko. Non avrei mai immaginato che ti avremmo rivisto in questo modo. Devi aver sopportato così tanto, così tanta sofferenza. Ma sappi che abbiamo fatto di tutto per il festival della scuola e il cappotto che ti abbiamo fatto per l'evento ti starebbe proprio bene. Non ti dimenticheremo mai. Ho sentito che il preside ti ha consegnato il certificato di diploma, quindi ci siamo diplomati insieme, tutti noi, con te, Jun Chan. Ora non c'è più dolore, non c'è più sofferenza. Per favore, riposa in pace. Adesso, il posto vicino al luogo in cui è stato scoperto il corpo di Junko è diventato un enorme parco che si chiama Wakatsu. Volevo andarci quando ero a Tokyo, ma non ho avuto il tempo, quindi la prossima volta, magari insieme a qualcuno di voi, ci faremo un salto per ricordare la povera Junko. Mamma mia questa storia, ragazzi. Sarebbe una cosa molto bella. Questo comunque è tutto. In realtà ci sarebbero stati altri dettagli più specifici riguardo le torture e il periodo di prigionia, ma ho preferito non andare troppo a fondo di proposito. Vi abbiamo comunque descritto tutte le cose principali che sono accadute, spero in maniera adeguata. Adesso ringrazio infinitamente Bob per avermi aiutato con questo video. Bob, se puoi dire qualcosa, questo è il momento giusto. Ma grazie a te Andrew per avermi ospitato. Quello di Junko Furuta è un caso di cui ci siamo trovati a parlare molto spesso al di fuori delle telecamere, viste le infinite volte che è stato richiesto ad entrambi. E sono veramente contento di essere riusciti a portarlo insieme. Se abbiamo aspettato così tanto, ora almeno vi è chiaro il perché crimini come questo ti rigirano abbastanza lo stomaco. Ora infatti vado a cercarmi i video di gattini su Instagram per riprendermi un po'. Vi saluto e ripasso la parola al vostro buon Andrew. Alla prossima! E niente ragazzi, fatemi sapere tutto ciò che pensate. Oddio, forse oggi non proprio tutto. Magari autocensuratevi alcune parolacce perché so già che altrimenti qui sotto diventa una parolaccia unica. Vabbè, fatemi sapere qualcosa. Io intanto, ai pochissimi che rimangono fino a qui, anticipo che presto parleremo di internet e di ultimi pasti dei condannati a morte. Ho in mente una cosa molto interessante e carina che poi vedrete. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale se siete curiosi. E se vi è piaciuto tra virgolette questo video, so che è difficile che vi piaccia un argomento del genere, però ecco se vi è piaciuto il modo in cui ve l'abbiamo raccontato, allora iscrivetevi. Che fatica. Questo video è stato una fatica, veramente. Quasi quanto quello di Albert Fish. Comunque, adesso parlo con te. Sì, proprio con te. Se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare, ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo. Vi ricordo infine di seguirmi anche su Instagram se volete farvi i cazzi miei. E niente, vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao! Ciao!